Io vorrei che la capacità di comprensione e di lettura della società potesse anche aiutarsi con uno spirito di rinnovamento che deve riguardare anche la fondazione. E il rinnovamento non riguarda soltanto le articolazioni della giostra, ma anche il palo della giostra. Concordiamo una durata. Perché secondo il senatore del Partito Democratico, Luciano D'Alfonso, dopo tanti anni di gestione senza ricambio, la fondazione Pescarabruzzo rischia di perdere di vista anche i principi sociali del suo statuto. Di questo e altro si è parlato nella conferenza stampa che il senatore PD ha tenuto questa mattina nella sala figlia di Iorio della provincia di Pescara, illustrando fatti e circostanze relativi alla vicenda della fondazione Pescarabruzzo e facendo seguito anche all'audizione del presidente Nicola Mattoscio di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Io adesso scriverò al professor Mattoscio nei confronti del quale io ho una tale quantità di gratitudine che l'ho fatto nominare presidente della Saga e per il quale incarico lo ringrazio ancora. Ho posto delle questioni riguardanti, per esempio, l'incomprensibilità di un comma, di un articolo della struttura statutaria che tende a comprimere l'espressione delle libertà sociali della nostra provincia. Quando si dice che la fondazione deve verificare la rappresentatività dei soggetti deputati a designare è una forzosità che non va d'accordo con lo spirito della democrazia, dell'autonomia, dell'indipendenza che il legislatore ha voluto configurare, ma anche la giustizia costituzionale, nei rapporti tra fondazione e organizzazioni sociali. Dobbiamo fare in modo che un articolo dello statuto renda implacabile l'incarico a tempo. Dopo due mandati non c'è possibilità di fare curve o rotatorie per tornare ad avere ruoli, altrimenti c'è il rischio che la persona fisica coincida con la persona giuridica e viene meno il valore dei progetti, il valore delle istanze, delle ambizioni sociali. Per fare in modo che tutta questa freschezza, tutta questa vitalità non si perda, c'è bisogno, dopo per esempio il tempo di due mandati, di rinnovare e di aprirsi nuovamente alla comunità. Perché dopo tanti anni si fa il punto proprio adesso? Io mi sono trovato davanti a due nodi. La questione riguardante la Filanda. 23 associazioni espressive del mondo del lavoro della donna, della cultura della donna, mi hanno chiesto di completare un piano finanziario per riedificare la struttura della Filanda di Pescara. Quando ho sottoposto questa aspettativa mi venne data una risposta minimalista. Così come quando ho sollevato il dramma del rischio chiusura della fondazione CEIS, mi è stato detto che lì ci sono dei problemi gestionali. Ecco io vorrei che su questo ci fosse lo stesso trattamento speciale che la fondazione ha saputo realizzare all'indirizzo della cultura. È un capolavoro lì sia. E vedo anche lì il presidio controllore affinché tutto sia rettilineo. Ma l'idea di pensare che Pescara sia senza idee e che tutte le idee si trovino in quel punto, in quel numero civico, a mio avviso è la descrizione di una patologia. L'auspicio del senatore Luciano D'Alfonso è che la fondazione Pescara Abruzzo tenga conto anche dei principi sociali e di quei 6.000 nuovi poveri generati dalla pandemia. Dire questo significa riconoscere un dramma che riguarda 6.000 persone nuove. A questi, oltre che la generosità di alcune figure imprenditoriali, oltre che la capacità di risposta limitata del comune, è possibile implementare anche un'altra capacità di risposta facendo in modo che una percentuale dei redditi pari al 10% della fondazione prenda come bersaglio le sacche di dolore sociale di questa città. Grazie.